la destra, secondo, bene, perfetto, ottimo colpo, anche con una rapidità di tiro, più che soddisfacente, vediamo se riesce a realizzare il miglior tempo, ce la dovrebbe fare Chien? Ah ce la fa, sì sì, sicuramente ce la fa adesso che lui abbiamo visto che ha fatto un bel zero a terra, ma anche veloce in piedi, è avanti circa una, vediamo adesso l'intermedio qui 14 secondi e io penso che anche Carrara sugli ultimi due chilometri e mezzo riesce ad andare, proprio la sua neve. Conosce molto bene la pista, ce la dovrebbe fare, ce la dovrebbe fare inserirsi al primo posto provvisorio della classifica, mancano ancora 10 secondi e ce la fa, ce la fa, Carrara per pochi secondi, 7 esattamente, 8 decimi va in testa alla classifica provvisoria dopo 50 concorrenti, attenzione è una bella quotazione, in tutto sono 104 i concorrenti che partecipano a questa 10 chilometri di cui Luna ci propone ancora la situazione.